I bisfosfonati sono i farmaci più largamente utilizzati per la terapia dell'osteoporosi. Uno di questi farmaci, il neridronato, è indicato in tre patologie rare o comunque poco frequenti e in una di esse è l'unico a possedere le indicazioni. Noi ci facciamo raccontare quali sono queste patologie e soprattutto qual è il valore del farmaco in queste tre indicazioni da una vera esperta dalla dottoressa Chiara Crotti che abbiamo incontrato qui a Roma al trentesimo congresso nazionale del Gbis, il gruppo italiano di Bon Multidisciplinary Specialist, un congresso molto importante che ha fatto il punto sulle patologie dell'osso e sui suoi trattamenti più recenti, più moderni. Dottoressa Crotti, incominciamo con la prima di queste tre indicazioni peculiari del neridronato e in questo caso con delle caratteristiche di unicità che adesso lei ci spiega. Questa indicazione è l'algodistrofia? Sì, il neridronato è l'unico farmaco al mondo ad avere ottenuto l'indicazione nell'algodistrofia. In particolar modo il nostro centro ha coordinato a Niorsono il trial registrativo che ha certificato l'efficacia e la sicurezza di neridronato alla posologia di 100 mg ogni terzo giorno per un dosaggio totale di 400 mg endovenosi e ha documentato in maniera evidence based che questo farmaco è in grado di ridurre significativamente la sintomatologia dolorosa espressa per il tramite della VAS, non solo a 40 giorni che era l'end point dello studio, ma in realtà ci sono pubblicazioni, una a lungo termine che in particolare risponde anche a quella che è un po' la domanda circa il fatto che questa molecola sia in grado non solo di curare la fase acuta di malattia ma che abbia un effetto lungo termine perché in realtà è pubblicato lo scorso anno il trial a un anno della formulazione in questo caso intramuscolare che ha recentissimamente ottenuto l'approvazione da parte dell'ente regolatore non solo perché ha dimostrato una comparabilità di effetto con la formulazione endovenosa ma ha anche assunto un significato altrettanto importante perché l'ente regolatore non solo lo registra ma lo registra in fascia A, pertanto in questo caso il neridronato sia nella formulazione endovenosa che nella recentissimamente approvata formulazione intramuscolare è l'unico farmaco al mondo ad avere l'indicazione per il trattamento dell'algodistrofia e come dicevo ha un follow up ad un anno che ne supporta le performance di tenuta e il nostro centro ha recentemente sottomesso un lavoro che dice che in realtà le performance di efficacia si confermano ben oltre l'anno perché abbiamo un follow up di quasi 5 anni. Bene, dei dati molto rassicuranti, una patologia molto dolorosa, molto anche invalidante se non viene curata. La seconda patologia di cui le ha parlato e in cui l'eridronato ha indicato è il morbo di Paget. Ci dice qualcosa? Allora in realtà è l'indicazione anagraficamente più vecchia perché si riferisce a studi che avevano in qualche maniera supportato l'utilizzo dei bisfosfonati oltreoceano, si erano utilizzati prevalentemente altre molecole ma l'Italia e il gruppo di Verona ha coordinato questo lavoro in cui in buona sostanza si certifica come l'eridronato alla posologia dei 100 mg per due giorni consecutivi sia in grado di essere estremamente efficace nel Paget e c'è uno studio di bridging sempre italiano che ne conferma analoghe performance anche nella formulazione intramuscolare. La terza e ultima indicazione si riferisce a una malattia rara che in certi casi può essere molto invalidante che è l'osteogenesi imperfetta. Ci dice qualcosa relativamente all'efficacia del farmaco? Certo, il farmaco è stato registrato con un trial inizialmente nella popolazione adulta che poi ha confermato le stesse performance anche nella popolazione pediatrica e il dato peculiare è che in realtà questo farmaco soprattutto nella popolazione pediatrica è talmente impattante da generare non solo un aumento densitometrico ma uno spostamento dello Z-score e questi bimbi affetti da osteogenesi imperfetta in qualche misura vengono equiparati dal punto di vista dello Z-score ai bimbi sani, quindi è in grado realmente di cambiare la storia clinica e la disabilità futura che questi bambini possono sperimentare. Quindi è sicuramente un farmaco impressivo non solo dal punto di vista densitometrico ma anche per quel che riguarda la riduzione del numero di fratture perché questo farmaco impatta non solo in termini di guadagno densitometrico ma ha un'efficacia anche circa quella che è il rischio di nuove fratture nei pazienti che vengono trattati, che si abbatte cospicuamente.